20 secondi e dove trovarci pieni Claudio? Aiuto! No! Non rastrochire! Ma dove va? Claudia! Ma cos'è una piccola scivia? Lei rosta? Chichiichiichiichi! Ah! Mamma mia quanto tempo era che non stavo tranquillo così tanto tempo! Dani ha detto che doveva andare a fare un servizio? Mmmh! Speriamo che non torni subito! Almeno posso stare bello in silenzio qui sul divano! Oh! Eh! Come? Eh! Ha già bussato la porta! Ma dai! Non ho fatto in tempo a dire che ero tranquillo che già devo andare a bussare la porta! Sì! Sì! Ho capito! Arrivo! Arrivo! Devo vedere allo spioncino chi è! Chi è? Ciao! Sono Dani! Ah! Ok! Dani! Adesso ti apro! È tornata! Scusa! Eh! No! Dicevo che sei finalmente tornata! Sì! Ah! Dani! Non ce ne va più! Ok! Però... Sì! Ma... Ma... Tu... Chi è lei? Dani! Eh beh! Claudia adesso noi è vero che vogliamo giocare e divertirci? No Dani! Io mi spiace però io mi devo rilassare sul mio divano e quindi non posso stare indietro ai vostri giochi! No 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 no! Vieni Claudia e entriamo! Noi ci dobbiamo divertire e sai che ci diciamo? Adesso andiamo a saltare sul letto! Vai vai! Vediamoci le scappe! No! Come sul letto? Dani! Ma... Ma... No! Non è possibile! Noi adesso salteremo sul letto! Vero Claudia? No! Claudia ha detto di no! Sei fortunato! Meno male! Anche perché poi mi tocca da me fare il bucato e non avevo per niente voglia di ripulire di nuovo quel letto! Aspetta un secondo e gli devo dire una cosa tu non puoi sentire! Ok! Ok! Ho parlato con Claudia e vogliamo giocare a nascondino quindi ti diamo 20 minuti... No! 20 secondi e dove trovarci? Vieni Claudia! Corri! Corri! Ma ero tanto tranquillo qui e adesso invece devo mettermi a giocare a nascondino guardate sto già sudando è impossibile questa cosa ma proprio! oggi doveva fare da babysitter la sua cugina non ha alcun senso questa cosa! Vabbè sarà meglio mettersi a contare va! Uno! Due! Tre! Claudia! Dove? Dove ci nascondiamo? Propone un posto! Io! Io! Dove mi devo mettere? Ok! Corri! Corri! Io! Oh! Dove vai? Dove vai? Ok! Mi sono tanto il tavolo! Mi sono tanto il tavolo! Ok! Corri! 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 Ok! Ok! Non ci vedrò mai! Ah! Noi dobbiamo stare in silenzio eh! Aspettate! Aspettate qua! E vado a controllare la situazione! Aspettate qua Claudia! 5! 4! 3! 2! 1! Ah! Ma dove si saranno cacciate quelle due? Allora! Sapete cosa vi dico? Quasi quasi non le trovo! Mi metto qui e sarai andato sul letto perché a loro saranno belle nascoste e io mi potrò rilassare! No! Penso che Dani si arrabbierebbe tantissimo! Quindi è molto meglio se le vado a cercare! Allora! Potrebbero essere qui sotto i nostri pop-it! Anzi ragazzi! Eh! Voi avete i pop-it! Perché a me piacciono tantissimo! E questi qua sono di Halloween! Li abbiamo presi per la festa! Eh! Però adesso non servono più perché è passato Halloween! Allora! Mmm! Questa piccola zucca è piccola come la cuginetta di Dani! Magari sta qui dentro! Eh! No! No! Non è dentro la zucca di Halloween! Mi dispiace! Allora! Vediamo in un'altra piccola stanza! Forse in bagno! Perché si può essere nascosta sotto al lavandino! Però è tutto buio nel bagno! Prima devo accendere la luce! Ok! Ah! Eh! No! Perché non ti accista la luce? Eh! Qualcuno l'ha fulminata? Ah no! Ecco! Si sta accendendo! Accendo pure questa perché ho un po' paura nel buio! Vediamo! Mmm! Non c'è nessuno! E neanche il nostro capinetto! Mannaggia! E dentro la doccia? Neanche! Ma quanto sono brava a nascondersi quelli due! Eh! Oh! Oh! Ho sentito una pernacchia! Ma si può sapere dove sono? Sento le perracchie! Non è che mi sto facendo la cacca addosso? Che sento le pernacchie! Mmm! Vediamo un pochettino! Forse è in un cassetto! No! Questo è... Qui non c'è niente! Un secondo! Eh! Mi sa proprio che vi ho trovate! Andrò prima io a Flore! Siamo un pochettino! No! 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 Non ci credo! Senti Claudia ma secondo te dovremmo dare una rivincita a Robby? Non è no! Secondo me no! Pure? Pure! Cioè non so vi facevate voi le perracchie e i rumori e poi non volete neanche darmi la rivincita! Non si fa mica così eh! Eh che Claudia! Eh! Guarda che la mia cuginetta è una piccola principessa! Guarda che carino il suo frontino! Vero sei la principessa Claudia? Sì che sei la principessa Claudia! Eh perché il frontino sono da principessa? Ah ah! Tanto so perfettamente che io riuscirò a nascondermi in maniera così perfetta che Claudia non riuscirà mai a trovarmi! Ah ah! Non potrei fare niente! Guarda! Non trovarmi niente! Guarda che Claudia ride perché sa già che vincerà! Vero? Sono velocissima! Ah ah! È velocissima! E allora per ti chiedo però una cosettina di ancora Claudia vai a contare fuori da questa stanza! Andiamo! Andiamo Claudia! Sì sì sì! Non capirai mai dove mi nascondo! Sì sì! Noi iniziamo! Sopra! Roby devi nascondere! Hai iniziato a contare! Quattro! Cinque! Sei! Sece! Otto! Nove! Dieci! Undici! Dodici! Vedi! Claudia! Io spiro un po' Tu conta! Vai vinta di contare! Vai! Dodici! Tredici! Dodici! Tredici! Quattordici! Quattordici! Quindici! Sedici! Ma vedi ci l'avevo non già detto! Ah! Ok! Scusami! Mi sono dimenticata! Diciotto! Diciannove! Oh! Vedi! Claudia! Vai! Corri! Corri! Trovalo! Trovalo! Allora! Vediamo sotto al tavolo! No! Sotto al tavolo non c'è nessuno! No! Non c'è niente! Ho un'idea! Ho un'idea! Ok! Dimmi! Qual è la tua idea? Ok! No! No! Qui non c'è nessuno! Claudia! Ok! Oh! C'è la luce accesa! Ok! Vediamo! Forse nella doccia! Forse nella doccia! C'è qualcuno? Eh! No! Non c'è nessuno! Ok! Vediamo nel water! Eh! No! Non c'è! Che schifo! Che schifo! Hai ragione! Claudia! Che schifo! No! Non ci posso credere! Sì! Vuoi sapere dove mi ero nascosto? Vieni! Ti faccio vedere! Lo so! Qui dietro! No! Mi ero messo dentro l'armadio! Dentro l'armadio! Guarda! Guarda! Ero così! Ciao! Ma come ci sentra? Ok! Adesso non riuscirai mai più! Davanti! Mi spiace! Aiuto! No! Non ti faremo mai uscire! E sai che ti diciamo che noi ci andiamo a mangiare la cioccolata e tu no? No! Non la mia cioccolata! Eh! Mi spiace! Andiamo! Andiamo! Ok! Noi mangiamo la cioccolata! Vediamo! Dobbiamo cercare la... Padelle no! Padelle no! Qui non è... No! Qui! Claudia non c'è la cioccolata oh oh qui no aspetta forse possiamo prendere i marshmallow che ne dici? ti piacciono i marshmallow? no ok preferisci la cioccolata? no e cosa preferisci? dimmi ok cioccolata ok lo so vediamo no lo sai che? è passato Halloween quindi Robby ha nascosto tutte le cioccolate dentro la zucca di Halloween oh oh sta qui sopra adesso la prenderò io per te guarda qui quanta cioccolata allora scegli la tua preferita Claudia vediamo cosa c'è vai aprilo tutto ci sono degli ovetti questi qui sono buonissimi e tipo a forma di occhio lo vuoi? ok lo mangeremo insieme alla faccia di Robby aspetta eh vai apriamolo ok? 3 2 1 vai oh ok devo uscire un po' no ma sei velocissima dimmi com'è vai assaggialo com'è Claudia? buono buono adesso andremo da Robby a dire che abbiamo mangiato la sua cioccolata vieni ok Robby noi stiamo arrivando eh Robby ma cosa stai facendo? ma mi stai chiamando al cellulare sì volevo dirti che volevo anche io un po' di cioccolata aiuto no non riesce a uscire no stai incestrato non sono piccolo ok spingilo insieme a me 3 2 1 ma quanto è forte Claudia non ha senso allora Claudia fai vedere i tuoi muscoli fai così vediamo eh no è un po' timida devi sapere Claudia eh sì un po' timida eppure mi ha tenuto lì dentro per così tanto tempo sono tutto sudato mica vi siete finiti la mia cioccolata? no no noi non l'abbiamo neanche mangiata vero Claudia? eh noi siamo bravi meno male perché se vi finivate la mia cioccolata mi sarei arrabbiato tantissimo e poi l'avrei nascosta tutta quante voi non l'avreste mai più trovata eh eh no questo che cos'è? eh no 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 Robby eh forse lo abbiamo lasciato lì questo qui che cos'è Claudia? eh che cos'è? oh oh Claudia ci ha sgamato è un occhio è il mio occhio oh oh mi sa che è andato sotto al letto ecco allora adesso non te lo potete prendemela ok vai Claudia io so che tu sei molto agile ma dove va? ma cos'è? è una piccola scebbia eccola attenzione alla testa ok ok allora mi sa che devo dartela come ricompensa perché tu sei riuscita a prendere io non l'avremmi preso no no allora è mio ok può per te Robby allora Claudia ho passato una mia cosa che mi piacciono tanto eh però Robby non ci può giocare quindi ci possiamo giocare solo noi ti presento la mia principessa ti piace? non ti piace? ok allora troviamo un'altra Barbie scegli la tua preferita eh se lo ha oh oh eh no questa credo che è la mia ok ok ho le gambe ah dici che la vuoi aggiustare? ok prova a ricomporla ma credo sia molto difficile Claudia ci sei riuscita? un attimo ok mi sa che non funziona tanto bene ah questa che ne dici? dato che è rotta potremmo darla a Robby ok Robby ecco qui il regalo da portemio di Claudia ma che posso giocare con le gambe? ma non ho le gambe eh no è rotta sì lei è rotta no Dani ti prego non ti arrabbiare non te ne compro un'altra non l'ho fatta apposta ma io non sono toccata e si sono staccate le gambe eh mi spiace adesso sai che ti diciamo? Claudia deve ricomprarcela vero? deve comprarci una Barbie molto più bella no forse riesco ad aggiustarla vediamo e ta-da oh oh no si è rotta ma io l'ho fatta qua è stata Claudia no si è stata tu Martini un secondo Martini Martini Pistole no 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 non funziona così guarda che io mi fido della mia cuginetta Claudia quindi mi spiace dovrei ricoprerci una Barbie nuova noi adesso dobbiamo cercare altre Barbie guarda questa quanti capelli che ha secondo te Dani ha più capelli questa Barbie oppure Claudia? ok vediamo mettiamo Claudia a confronto no 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 io voglio una cosa più scientifica devo contarli ok uno due tre ha quattro peli quella quella Barbie ok vediamo Claudia invece quanti capelli ha li conti tu? ok vediamo allora uno due tre basta ne ha solo tre capelli no ma guarda quanti capelli che ha secondo te quanti capelli hai? un numero grande vero? mille secondo me ne ha tipo duemila capelli duemila capelli? e tu che dici? mi sono tagliato un giorno i capelli dalla parrucchia ah ah ti sei tagliato tanto i capelli? ecco perché adesso ne ha di meno ma fidati che la mia cuginetta prima aveva tantissimi i capelli ma questo è un maschio si Robby noi adesso abbiamo il nostro cavaliere non abbiamo più bisogno di te ehi e io chi sono allora? eh non viene Claudia tu lo conosci? lo conosciamo a Robby? Claudia? eh eh Claudia non mi vuole rispondere mi spiace ha detto che non ti conosce ecco adesso non mi volete manco più parlare ecco giocare tra voi ok ciao ciao quelle due non me le raccontano giuste non vogliono neanche più giocare con me non ha alcun senso prima me ne stavo bello tranquillo a come fatti miei poi sono venute loro ho giocato al nascondino ho anche un po' perso e poi adesso non vogliono neanche più giocare con me non ha alcun senso questa cosa guarda che belli e poi c'è un top a te piacciono i top o piacciono i più vestitini? più vestitini più vestitini allora vediamo se qui questa è bellissima guarda che vestitino che ha allora è più bianca troppo bianca hai ragione quindi dovremmo andare a fare un po' di shopping per lei allora Claudia ma tu l'hai detto a Roby quanti anni hai? quanti anni hai? e allora facciamo uno c'è un anno? no ok due cinque anni e mezzo cinque anni e mezzo Roby ma vedi quanto è alta cinque anni e mezzo? e voi ragazzi quanti anni avete? Roby perché sei così triste e sei sul tavolo? perché voi non volete giocare con me? ma noi siamo delle femminucce le femminucce giocano tra femminucce vero Claudia? eh sì Claudia ha detto che dobbiamo giocare da solo con le Barbie perché avete una Barbie maschio allora? se non volete giocare con i maschi perché hai una Barbie maschio? eh Claudia Claudia perché noi abbiamo una Barbie maschio? come troviamo una scusa per Roby? diciamo che ci sta antipatico? non ho capito Claudia forse sì ok forse sì ci sta antipatico ok mi spiace Roby ci ha detto che ci sei antipatico eh? io? eh sì ci stai antipatico ma 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 cosa ho fatto? mi stai antipatico? scusami io ho giocare a nascondino ho rincorsa ho ho avete pure perduto la mia cioccolata e sono pure antipatico però se vuoi io e Claudia ti diamo una possibilità ovvero quella di comprarci tante Barbie nuove così potremo ridiventare amici che ne dici? è un buon piano si è un buon piano Roby dovrei comprarci tante Barbie tante Barbie dice allora se compro tante Barbie dovrò spendere tutti quanti i miei soldi però poi Claudia se io sono simpatico e quindi poi con la simpatia di Claudia potrei utilizzarla per no non so ok va bene allora prossimamente avremo delle nuove Barbie Claudia si si ma adesso almeno sto ancora antipatico no perché ho fatto quello che volevate e quindi magari possiamo riprovare a giocare giocheremo a un due tre stella che ne dici un due tre stella come si gioca Dani non ci ho mai giocato mi spiace Claudia tu sai giocare a un due tre stella ok quindi ti va se noi contiamo e dobbiamo controllare se Roby non si muove ok Claudia ha detto di si quindi pronti per giocare a un due tre stella ok che due devono stare a camminare e uno deve stare a contare esatto guarda te lo spiega Claudia vieni Claudia allora spiega a Roby come si gioca perché lui non sa giocare uno sta con te e lo stanno qui dopo uno fa un due tre stella e dopo lo si fermano esatto e non ti devi muovere hai capito Roby tutto chiaro ok giochiamo vieni Claudia ci metteremo qua lui deve venire dietro di noi ok una due tre stella vediamo se si muove attentamente si muove si muove però potremmo dargli un'ultima chance aspetta vediamo se gli diamo un po' di fastidio se si muove oh oh ok va bene vediamo ok vai ricontiamo Claudia ok uno due tre uno vai ok Roby non lo so vai Claudia chi 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 guarda che adesso ti facciamo il solletico chi 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 ha 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 hai perso si vuoi il solletico ragazzi ditelo che non vuole è stata lei al dire di prezoletico sgomberto vero bravo Claudia ha vanti 5 eh sve allora adesso io ho conto e poi voi 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 state ferme tanto ormai ho capito come si gioca ha 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 ok 1 2 3 bello vediamo se state fermi oppure no ti stai muovendo ti stai muovendo un due tre cacchio qua tu in vicina potrebbe essere per vincere vediamo qui ma c'hai una carie dovresti farti controllare oh ma qui cosa c'è qui c'è una caccola buona oh cacchio vuole davvero vincere Dani e forse ti sei mossa ah ho una domanda per te signorina Claudia ti sei mossa anche tu ti sei mossa allora sai che tu ci hai distratto non vale parare a fare il solletico e distrarre gli avversari ah non vale no no perché tu non avevi nessuna cosa e io ti sono incontente esatto se fai delle domande devi avere delle risposte e Claudia è molto gentile da risponderti vabbè allora ripartiamo da questo punto però tu ti sei mossa e devi andare dietro va bene Claudia tu potevi rimanere qui perché ti ho fatto la domanda continuiamo ok aspetta ok questa sarà super veloce uno due tre sto ah ho vinto brava Claudia mi spiace Claudia è troppo forte ragazzi scrivete voi qui sotto nei commenti secondo voi chi è stato più bravo tra Dani io Robby e Claudia la mia piccola cuginetta e secondo te Claudia chi è stato più bravo a giocare prima io oppure voi due oppure tu chi è stato più bravo Claudia non me io perché sono andata a compito a lui eh Claudia è la regina dell'un due tre stella Robby c'è un finto cioè tra i notelli è un finto diciamo ho toccato ha toccato tu invece non hai toccato ok quindi Claudia noi siamo proprio delle cuginette speciali e voi ragazzi avete mai giocato a un due tre stella? scrivetela nei commenti e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao 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 ciao